Le direttive dell'Unione Europea da un lato volte a promuovere l'efficienza nell'utilizzo dell'energia e l'eliminazione delle fonti più impattanti e la costruzione ad hoc di un sistema che garantisca al territorio, in questo caso l'Abruzzo, la massima opportunità dall'altro. Va in questa direzione l'iniziativa voluta da Synapses, il Centro Studi Fenimprese presieduto da Licio Di Biase, che il prossimo 23 giugno ha organizzato una tavola rotonda dal titolo Ambiente, Energia, Sostenibilità, le grandi sfide del Mediterraneo. L'evento verrà trasmesso in diretta streaming su Rete 8 Tube. Un convegno in cui verranno analizzate tutte quelle direttive della Comunità Europea che fanno parte del cosiddetto Green Deal europeo, cioè tutta quella serie di provvedimenti che l'Unione Europea sta mettendo in campo a tutela dell'ambiente. È chiaro che il focus nostro sarà sulle conseguenze di queste iniziative della Comunità Europea. Facciamo un esempio sul territorio abruzzese. Ad esempio, l'industria automotive abruzzese così forte subirà, secondo noi, delle ripercussioni da questa situazione, perché una delle iniziative della Comunità Europea, dell'Unione Europea, è quella di abolire la commercializzazione e la produzione di motori a benzina e diesel dal 2035. Un'analisi che parte dalla scienza ma che non tralascia le implicazioni sociali. Le premesse fanno pensare a un osservatorio in grado di rappresentare un punto di riferimento per i più svariati stakeholder, imprese e lavoratori del mondo privato, ma anche soggetti pubblici che dialogano attraverso il loro ruolo istituzionale con l'Europa. Tra i relatori del convegno, Franco Battaglia, Stefano Cianciotto, Uberto Crescenti, Mario Giaccio, Bruno Tabacci, Giorgio Spaziani Teste e Franco Prodi. La massima autorità dal punto di vista della fisica e dell'atmosfera mondiale, quindi che ci spiegherà quali sono effettivamente le condizioni del nostro clima. Se il nostro clima effettivamente è un clima che sta cambiando, se sta cambiando a causa delle attività umane o meno.